Signore e signori, i vincitori dei settantaquattresimi Hunger Games, Katniss Everdeen e Pita Mellari. Non è quello che credono che sia. Lei vuole solo salvarsi la pelle, nient'altro. Per loro è diventata un faro di speranza. Deve essere eliminata. Tu che pensi? Concordo che debba morire, ma nel modo giusto, al momento giusto. Katniss Everdeen è un simbolo. Non deve distruggere lei, ma la sua immagine. Mostri a tutti che una di noi adesso li unisca in questa convinzione. La odieranno a tal punto che forse la uccideranno loro. Ehi, Mitch, ti prego, ti prego, aiutami a terminare il viaggio. Questo viaggio non finisce quando tornate a casa. Cosa dobbiamo fare? D'ora in avanti. Il vostro compito è essere una distrazione, affinché le persone dimentichino i veri problemi. Morale su e un bel sorriso. Marco Katniss Everdeen, la ragazza di fuoco. Tu gli hai offerto un'opportunità. Devono solo essere abbastanza coraggiosi da coglierla. Mi hai salvato la vita. Dato una possibilità. Sì, di vivere. No, di fare qualcosa. Devi lasciarmi fuori prima che ci uccidano. Ci uccideranno. No! 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 Su, falla! L'intera sua specie deve essere estirpata. La sua specie, signore? Gli altri vincitori. Per colpa sua rappresentano tutti una minaccia. Per colpa sua si credono invincibili.